Dagli anni della crisi e rilancio del settore tessile con quello che già si annuncia come l'effetto Cucinelli che a Penne, dopo l'arrivo del re del Kashmir, potrebbe fungere da attrattiva per altri grandi marchi della moda. Oggi a Penne è infatti il giorno di un nuovo inizio, quello della produzione dello stabilimento di Brunello Cucinelli. Nel suo primo opificio della zona Ponte Sant'Antonio, l'imprenditore Umbro ha avviato la produzione di capispalla, impiegando inizialmente tra le 70 e le 100 maestranze, che saliranno a circa 350 quando entrerà in funzione anche il secondo sito produttivo di circa 5.000 m2, al quale si affiancherà un terzo capannone da 3.000 m2 destinato alla mensa aziendale. Il completamento dei lavori è previsto per il 1 gennaio 2025, così come stabilito dal cronoprogramma. L'arrivo in Abruzzo di Brunello Cucinelli è stato anche al centro della trasmissione 31 minuti del giornalista del Quotidiano al Centro, Pietro Lambertini, con regia di Antonio Dottavio, andata in onda su Rete 8 lo scorso giovedì 9 novembre e consultabile sul canale di Rete 8 Tube. Per avviare la produzione di Cucinelli a Penne è stato ammodernato un capannone all'intersezione della statale 81 al bivio con Montebello di Bertona e ultimata la rotonda sulla stessa statale che permetterà di agevolare l'ingresso in fabbrica dei mezzi di trasporto. L'investimento abruzzese del re del Kashmir si aggira sui 2 milioni di euro e consentirà di dare lavoro a 350 persone nel polo vestino, che inizialmente si occuperà della produzione sartoriale di capispalla e giacche su misura, ma l'imprenditore Umbro non esclude di ampliare la produzione del sito di Penne, avvantaggiandosi anche dell'inserimento del comune vestino nell'area della ZES, la zona economica speciale che partirà dal 1 gennaio 2024 e consentirà agli investitori di avvalersi di importanti sgravi fiscali. Intanto il capoluogo vestino si prepara ad accogliere in città Brunello Cucinelli, che il 22 novembre a Penne presenterà la sua linea produttiva. Una scommessa per il futuro, che permetterà all'intera area vestina di puntare su progetti ambiziosi come un'università della moda, così come annunciato dal sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, al microfono di Pietro Lambertini. Un progetto in grado di consentire quel ricambio generazionale necessario per dare continuità al settore della moda e per tenere alto il vessillo di Penne, città della sartoria artigianale, per la valenza degli abiti cuciti dalle preziose mani dei sarti pennesi, internazionalmente riconosciuti, insieme alla scuola fiorentina e a quella napoletana dell'alta sartoria italiana.